ciao a tutti anime bentornati qua su quinta dimensione letture un caloroso e affettuoso saluto a chi mi segue già con affetto da tanto tempo e un caloroso benvenuto su questo canale a chi mi ascolta oggi per la prima volta invito tutti chi non l'avesse fatto a iscriversi a questo canale e attivando la campanellina cliccando su tutte allora oggi ti invito a scegliere un mazzo per vedere un attimo quello che sta per accadere qual è il tuo futuro prossimo quindi a breve diciamo e vediamo un po anche che cosa accade da questi mazzi scegli il mazzo 1 o il mazzo 2 la pietra di riferimento per chi piace di più la prima è la larimar per il mazzo 1 la seconda associata al mazzo 2 è la pirite quindi puoi scegliere la pietra che ti piace di più o il mazzo che ti piace di più ti invito a sceglierne una non tutte e due quindi ne scegli uno poi magari così solo per curiosità puoi ascoltare anche l'altro ma quello che è indirizzato a te è quello che tu scegli quindi mazzo 1 pietra larimar mazzo 2 pietra pirite tu scegli poi io integrerò la lettura con altre aggiunte di carte energetiche oracoli eccetera allora spostiamo il secondo mazzo di qua quello con la pirite e ci rivolgiamo a chi ha scelto il mazzo 1 con la pietra larimar eccolo qua chi ha scelto la larimar vediamo il futuro prossimo di chi ha scelto qui non è importante che fai domanda niente vedi tu qua vediamo molto ci affidiamo molto la sincronicità di quello che deve uscire ora ricorda tutti che è un video collettivo e generale quindi prendi quello che ti risuona il resto non è per te ma è per qualcun altro probabilmente quindi prendi quello che è in linea che è in sintonia perché non è una consulenza privata questa vediamo ricorda tutti gli accessori come la tovaglietta questa qua che è la interdimensionale trovate tutta tutto nella descrizione perché sono una creativa lo sapete ormai chi mi conosce mi piace lavorare con strumenti miei anche molto spesso e volentieri vediamo il futuro prossimo adesso cosa c'è da dire chi ha scelto il mazzo 1 questo mazzo che sto mischiando mazzo 1 pietra all'arima armazzo 1 qui abbiamo delle tossicità vizi cose che si ripetono cose ancora che ci sono ci sarebbero da togliere di mezzo eh vediamo un po' qui c'è una resistenza tua a qualcosa mazzo 1 un qualcosa che ti provoca anche rabbia se vogliamo stai forse tenendo qualcuno a distanza perché io vedo una persona che si sta un po' difendendo che si è un po' chiusa in se stessa e non permette diciamo aiuto dall'esterno compresa anche un po' di rabbia che hai dentro di te eh vediamo per alcuni si tratta di lavoro per alcuni si tratta di amore abbiamo un cavaliere di bastoni quindi comunque potrebbe essere anche una persona a livello amoroso affettivo che ti interessa ma per tanti ci parla anche di famiglia con il 10 di pentacoli ci parla di casa anche no ma credo che verta più per alcuni sul lavoro per alcuni dell'ascolto è perché abbiamo ben due carte di denari qua ben piantate qualcuno forse sta pensando a qualche questione economica ereditaria di casa contratti trasferimenti cose cose insomma diciamo a livello più materiale però per tanti con questo cavaliere di bastoni ci parla anche di notizie in arrivo eh quindi preparati perché qui ci sono delle notizie in arrivo per te vediamo un po' ancora andiamo avanti lettura 1 sì sì qua probabilmente qualcuno vuole anche trasferirsi cambiare città cambiare casa cambiare paese però sta trovando sembrerebbe qua degli intoppi dei blocchi dei contrasti con altre persone delle indecisioni delle impossibilità a procedere se vogliamo no c'è qualcosa che ti sta ostacolando per alcuni potrebbe essere anche una persona un uomo di denari qua ci viene fuori potrebbe essere in forma qualsiasi attenzione non parliamo sempre solo d'amore eh ci sono tante situazioni nella vita potrebbe essere un padre un re di denari eh potrebbe essere anche un marito un compagno comunque un'energia importante sicuramente nella nostra vita però c'è questo sei di spade che ci invita a lasciarci andare che ci invita a cambiare anche le nostre vedute a cambiare le nostre posizioni e ricordatevi che il sei di spade scusate il sei di spade ci invita a cambiare la rotta a cambiare la sponda ci invita a diciamo tentare anche a lasciarci andare verso un cambiamento qua lettura 1 forse stavi aspettando questa risposta che cosa devo fare per questa situazione perché qua sento un'energia all'ascolto di indecisione ma veramente forte sicuramente ancora non tanto centrata o centrato in te stessa o in te stesso perché c'è un po' di resistenza qua c'è un po' di resistenza a lasciare andare sembrerebbe approfondiamo con qualche altra carta vediamo cosa ci dice però notizie teleconfermo è che ci sono io credo che nel futuro prossimo decisioni importanti non ne prendi ci conferma anche che la situazione in cui ti trovi dipende anche da un discorso karmico guarda cosa c'è scritto su questa carta karma arcano numero 20 so che all'ascolto ci sono anche persone che magari hanno una tendenza a non voler sbagliare a esigere tanto anche da se stessi forse e questo spesso magari ti ha portato ad una infelicità perché desiderare molto e tanto e spesso se vogliamo la perfezione nelle cose ci porta poi a fallire perché non ci permettiamo le vie di mezzo e questo è molto importante invece nella vita la via di mezzo ci aiuta tantissimo in realtà è step by step va bene questo è molto importante quindi qui lasciati anche se vogliamo andare alle vie di mezzo cioè anche se non vedi tutto il panorama ancora davanti a te forse qui tanti si sono come dire trattenuti perché non erano sicuri al 100 per cento di qualcosa beh questo è un vizio da togliersi perché se aspettiamo di essere sicuri al 100 per cento di tutto di avere tutte le cose al posto giusto tutte le persone nel momento giusto tutte le situazioni devono andare e incastrarsi perfettamente come diciamo noi e così rimaniamo fermi 40 anni quindi intanto buttati lettura 1 stesa 1 mazzo 1 perché qua c'è comunque una resistenza qui partiamo comunque con un set di bastoni qua c'è qualcuno che non permette comunque alle cose anche di svolgersi se vogliamo spontaneamente perché qui c'è un difendersi qui c'è un essersi ritirati un po' anche se vogliamo in se stessi che per carità in certi periodi un po' di auto osservazione non è che sia negativa non sto dicendo quello però qua non vedo tanto risultato nel futuro prossimo vedo comunque ancora questi ostacoli vedo notizie teleconfermo delle notizie che ti stanno per arrivare ma vedo la situazione è comunque ancora fuori controllo e ce lo dice il matto quindi c'è ancora una cosa instabile qui siamo sotto un'influenza di un numero zero quindi comunque non abbiamo le certezze di nulla e non vedo neanche arrivarle a breve arrivano le notizie ma non ti bastano queste notizie lettura 1 è come se tu aspettassi ancora una certezza in più che però non te la può dare nessuno quindi qui prova magari a muovere dei passi ti dicono anche se non hai ancora tutto come dici tu questo è molto importante questo è il consiglio che ti viene da questo mazzo da questa stesa che hai scelto però le notizie ti ricordo che ci sono a maggior ragione mi rivolgo a quelli che con l'arcano matto mi sta dicendo la stesa hanno intenzione di trasferirsi di viaggiare di spostarsi di intraprendere non so un'avventura un qualcosa un cambio di lavoro un cambio di casa uno spostamento magari desiderano fortemente andare via dal posto dove vivono ora però ancora non hanno le certezze necessarie perché questo te lo dicono le carte perché non c'è ancora diciamo la risposta come tu vuoi e tu stai aspettando la risposta che vuoi e finché non è quella risposta non ti muovi beh qua non è una buona mossa ti dicono qua volendo potresti intanto fare dei passi per perché molto spesso le cose le persone giuste che ti si presenteranno al momento giusto avvengono con il coraggio cioè questo coraggio del tuo primo passo il secondo passo e poi il terzo e poi il quarto passo e via dicendo ti porteranno sarà premiata questa cosa ti porteranno verso l'obiettivo quindi è importante non è che tu non ti devi muovere non fare niente finché non vedi che tutto come dici tu perché questo ti tiene fermo non so quanto tempo questo non è una cosa buona da fare tu muoviti parti intanto fallo questo passo lanciati buttati fai fare anche alla vita poi ti arriverà strada facendo anche qualche altra risposta ci dicono qua proseguiamo vediamo anche a livello oracolare che cosa ti dicono mazzo 1 vediamo i prossimi eventi futuro prossimo a breve sapete che tanto in là non si può guardare con queste energie così è in continuo mutamento vediamo vediamo un po il mazzo 1 e l'allarimar degli eventi adesso futuro prossimo a breve vediamo un po intanto cosa si va a muovere per chi ha scelto l'allarimar il mazzo 1 il primo evento avrai una visita qua in casa in casa tua qualcuno verrà a trovarti primo evento secondo evento una profonda ispirazione del lavoro personale una grande crescita quindi molto bene probabilmente tanti si seguiranno questi consigli da questo da questa stesa che hanno ascoltato da prima di quando ho fatto e tirato giù per te questo mazzo dove ti diceva appunto di fare diciamo della introspezione intanto parti fai probabilmente qui c'è una crescita un lavoro personale che finalmente in tanti prenderà veramente piede prenderà strada vediamo un altro evento per te un calo di energia energia in diminuzione riprendi le forze quindi attenzione a questi alti e bassi che abbiamo quindi qui potremmo stare ancora nel prossimo futuro a breve sempre ovviamente con queste energie ripeto non possiamo avere certezze andremo molto ad alti e bassi però non ti preoccupare perché nessuno arriva al top dei top sempre tutto lanciato come un razzo come un missile quindi potresti variare nel prossimo futuro a breve da momenti di profonda connessione momenti di risposte dove veramente ti sembra di avere già tante cose chiarite a poi successivamente dei cali cioè comunque come se ti sembra aver perso una certa connessione magari abbiamo tutti quei momenti dove siamo tanto connessi capiamo tutto vediamo tutto e poi dei periodi no quindi non ti preoccupare se accadrà questo perché comunque tenderà ad essere un po ancora per te ma ripeto non è mai per sempre qui è quando tu guardi nel qui e ora e a breve comunque da quando apri questo video non è un per sempre va bene quindi ancora ci dicono che le tue energie nei prossimi mesi a breve saranno comunque ancora un po con un grafico ad onda ok un po alti e un po bassi la cosa questa qua proprio diciamo sicura è questa visita in casa una visita per te vediamo adesso anche un consiglio sulla tua situazione in questo momento dai messaggi divini oracolo per la lettura 1 il mazzo 1 che ha scelto l'alarima al futuro prossimo vediamo un po un attimo qua questa ne prendiamo una perché sono molto profonde e vediamo su cosa devi lavorare o che consiglio ti danno adesso per la tua situazione adesso quando apri il video mentre dormi ricevi informazioni importanti anche se non ricordi nulla addormentati chiamandoci 0 1 0 1 11 molti 1 abbiamo qua allora qui dicono che le informazioni le risposte ce l'hai anche se tu non ti ricordi ci dicono qua magari qui potrei fatemi sapere poi magari nei commenti se quando voi dormite magari sognate delle cose perché dicono che qua non sono solo sogni sono anche informazioni vere che ti stanno dando gli esseri di luce addormentati chiamandoci sicuramente è una cosa è un consiglio che ti stanno dando perché molti che lavorano con energia lo sanno quando si va a dormire è molto importante anche l'intenzione così come quella del mattino è importante anche quella della sera prima di chiudere gli occhi quindi qua se vogliamo avere tangibilmente parlo proprio delle risposte va bene facciamo questa buona cosa la sera prima di addormentarci chiamiamo gli esseri di luce chiamiamo i nostri angeli chiamiamo l'universo i maestri ascesi chiediamo proprio di darci mentre dormiamo di farci fare dei sogni dove possiamo avere delle informazioni delle risposte è molto importante questa cosa e poi si chiude gli occhi c'è l'ultimo pensiero che si fa è importante tanto quanto il primo pensiero del mattino sono cose fondamentali l'inizio e la chiusura della giornata prendi questa buona abitudine perché qua ci dicono che già le stai ricevendo in realtà queste informazioni mentre dormi anche se non ricordi nulla poi ovviamente il tuo inconscio le registra comunque va bene questo sì anche se tu non ricordi a livello conscio il sogno che hai fatto o le informazioni in realtà qua ci dicono che gli insegnamenti ci sono stati però ascolta questa carta tu cerca di fare questa chiamata prima di andare a dormire specialmente in dei momenti in cui ti senti veramente molto confusa o molto confuso fatti chiarire fatti dare le risposte bene perché quale hai già è in realtà qua ce l'hai però forse molti non si sono resi conto e questa è una carta che ci chiarisce questo ti sta dando questa risposta qua mentre dormi ricevi informazioni importanti anche se non ricordi nulla questo è un evento che sta già accadendo non è che accadrà cioè accadrà sì ancora nel prossimo futuro ma sta già accadendo qui è in forma presente va bene quindi ricordati questa cosa vediamo per chiudere anche un'energia per il mazzo 1 l'allarimar la pietra allarimar il mazzo 1 l'energia futuro prossimo mazzo 1 un'energia per il futuro prossimo vediamo qual è momento per momento quindi qua cerca di fare lo step by step che ti dicevo prima ok si vedete a rocchi che dalle altre carte lo step by step significa rimanere sempre con i piedi per terra vedete questa carta no fa prima questo passo e qua c'è pronto l'altro nel senso no 1 2 3 4 cioè qui non bisogna saltare dall'1 al 7 per dire per fare un esempio dall'1 si deve saltare al 2 step by step passo dopo passo gradino dopo gradino momento per momento anche se in questo momento lettura 1 mazzo 1 è un momento un po' difficile momento molto di indecisione a quanto vedo perché esce pure un 2 sappiamo benissimo in numerologia il 2 è un po' il bivio no è l'indecisione è l'aspettarsi qualcosa è comunque non sapere che cosa fare è indecisione anche quindi non ti preoccupare fai fluire anche i momenti non prendere ogni cosa che accade come il giudizio del mondo i momenti passano tanto quelli belli come tanto quelli brutti siamo comunque in terza dimensione quindi dobbiamo comunque capire che certi passaggi ci servono per innalzarci per una vibrazione superiore quindi non è che è sempre tutto rose e fiori anzi poche volte e rose e fiori quindi accogli quello che viene oggi che viene domani dopo domani e ancora dopo domani dopo domani quindi fai un passo alla volta ti dicono qua come energie va bene mantieni su questo tipo di equilibrio perché questo vuol dire un sano equilibrio passo dopo passo è un sano equilibrio è un giusto e sano comportamento quindi mantieni questo tipo di energia e poi andremo a vedere più avanti ok approfondiremo più avanti faremo anche altri video ma già ne puoi vedere tanti anche sul mio canale per vedere un po' l'evoluzione in questo momento il mazzo 1 devo un attimo focalizzarsi un po' anche se non vede tanto a lungo termine ma non importa perché è uno stress questo continuo a domandarsi le cose come andranno in realtà ci provoca uno stress infinito come dicono gli esseri di luce cominciamo un po' a fare pensare agire e poi lasciare andare anziché fare pensare agire poi aspettarsi subito il risultato cominciamo un po' a levarci di mezzo sto risultato per come una è una sorta di ansia da prestazione questa cioè vedere se vado bene vedere se poi ho questo vedere se poi raggiungo questo e se faccio questo vediamo se arriva quello e se sono stata brava sono stato bravo qua vediamo se arriva un po' questo qui ecco questo è uno stress questo non vuol dire essere in buone energie il buon discepolo il buon lavoratore della luce l'operatore di luce lo studente spirituale questo è uno dei concetti che deve capire subito fai e lascia andare questo è che ti porta poi all'evoluzione va bene il continuo aspettarsi di un risultato non ti porta all'evoluzione anzi ti abbassa anche le energie quindi cerchiamo di star leggeri leggeri a livello di vibrazione molto leggera mazzo 1 grazie mille queste erano un po' le indicazioni così arrivate senza domanda senza niente quello che doveva arrivare è arrivato io ti invito a lasciarmi un like al video iscriverti al canale e io proseguo con il secondo mazzo mazzo 2 il secondo mazzo che ha scelto la pirite eccola qua allora chi ha scelto il secondo mazzo vediamo un attimo che cosa ti dicono qua a cosa andiamo incontro senza alcuna domanda vediamo un attimo quello che ti deve arrivare stacchiamola questa testa stacchiamo questi pensieri hai scelto questo mazzo ti è piaciuta questa pietra vediamo che cosa ti deve arrivare poi ti approfondisco con altre carte ovviamente vediamo intanto un po' la situazione chiediamo ricordati che è un collettivo generale prendi quello che ti risuona il resto è per qualcun altro e non è per te quindi prendi quello che collima con te perché non è una consulenza privata ricordo di guardare la descrizione del video anche per queste tovagliette che creo io per le informazioni sui miei oracoli per parlare con me per il sito web e tutto quanto è vediamo il mazzo numero due mazzo numero due qua la pirite mazzo numero due pirite quanta indecisione in questo mazzo qui c'è pure gente in conflitto in conflitto con altre persone siamo qua è qualsiasi ambito ovviamente vediamo un po' però non ti preoccupare qua è una chiusura di un ciclo e qui abbiamo anche il mondo quindi qui abbiamo comunque un percorso che sta avvolgendo se vogliamo anche al termine di nuova indecisione incredibile qua dentro io credo che qua tra l'altro ci parli anche di cose la lettura due il mazzo due con la pirite di cose vecchie qui abbiamo la temperanza sapete bene chi conosce un po' gli arcani la temperanza non è un mese due temperanza sono anni anni è la carta più vecchia che abbiamo è la carta più antica però sia rivolta al passato che anche al futuro quindi attenzione a non far diventare la temperanza la tua carta del futuro perché sono qua che sia del passato quindi che stiamo parlando di cose che si protraggono da tempo bene ma non che le facciamo protrarre ancora in altri dieci anni questo vediamo adesso eh allora quello che emerge molto da qua ecco qui ci è uscito pure il diavolo a posto quindi comunque qui molta responsabilità delle persone coinvolte nella tua situazione ma anche tue perché comunque ci parla di tossicità di vizi di cose che si ripetono abbiamo un sacco di indecisione anche dovuta a te che magari tu che ascolti non sei stata in grado o stato in grado di portare una decisione nella tua vita hai procrastinato forse per tanti tipi di motivi per carità nessuno dice niente però ci sono stati degli errori il diavolo è sempre la carta degli errori il diavolo è la carta del magnetismo ma visto in modo negativo quindi o tu sei una persona comunque che attrae purtroppo anche situazioni di bassa energia e persone di basse energie o sei stata o stato vittime di persone che hanno fatto questo tipo di magnetismo però al negativo nei tuoi confronti quindi qui potrebbe essere l'uno o l'altro dipende dalla situazione di chi ascolta perché non è personale questo consulto qua allora qui ci sono comunque delle tossicità quello che è sicuro è che c'è un ripetersi di situazioni sbagliate di vizi se vogliamo cioè sbagliamo sempre lì sappiamo che dobbiamo andare avanti ma continuiamo a fare le stesse cose qua non vedo un progredire della situazione lettura 2 mazzo 2 pirite qua c'è ancora un'indecisione di fondo che dipende da te o che dipende anche da diciamo persone esterne a te potrebbe anche essere quello va bene con il cavaliere di spade ci parla anche di personaggi attorno a te se vogliamo anche un po' pungenti sappiamo bene che il seme di spade è un seme collegato all'elemento aria e l'elemento aria quando parla allora non è che sia tanto come come posso farti allora non è come per esempio l'elemento coppe collegato all'elemento acqua non è dolce non è amorevole quindi qui abbiamo forse anche subito se vogliamo ma stiamo subendo anche adesso che ascolti delle parole dei comportamenti delle freddezze delle freddezze forse abbiamo bisogno di sentirci amati coccolati semplicemente un abbraccio una parola di conforto in più che ci manca magari siamo stati sottoposti a una vita tosta a una vita dura e servirebbe quasi un abbraccio se vogliamo no tante volte per riuscire a stare meglio a stare bene e invece qua sembra che siamo un po' contornati da persone come dire che non sono proprio il massimo a livello di parole amorevoli e confortatrici e confortanti credo che molti qua si riferisca anche all'amore sinceramente vediamo un po' andiamo avanti no qua però da questo periodo possiamo semplicemente avere per alcuni ovviamente non per tutti un chiarimento perché abbiamo il sole quindi sia che si tratti di lavoro cose bloccate o amore abbiamo comunque un sole il sole è un accano stupendo che ci parla di schiarita lo sapete il sole cosa fa dalla luce il sole porta alla luce quindi se c'era qualche segreto qualche cosa che non andava bene questo segreto verrà alla luce perché c'è il sole che farà luce lì dove c'era ombra e quindi porterà fuori quello che c'era lì sull'ombra e non si vedeva quindi qua c'è una schiarita per molti che sono in conflitto con altri sia familiari lavorativi o amorosi il sole porta un certo chiarimento porta anche a fare la pace ci parla anche molto di famiglia di amicizia l'arcano sole l'arcano 19 quindi qui c'è comunque un chiarire ok però terminiamo con 10 di spade allora è anche vero che il 10 nei tarocchi si dice anche fine nel senso siamo arrivati al 10 e poi ripartiamo con l'asso no cioè no vabbè c'è il comunque il fante poi c'è il cavaliere poi c'è il re e poi c'è l'asso però però a livello numerico da 1 a 10 perché poi fante cavallo e re sono figure non sono numeriche per quanto riguarda le numeriche l'ultimo numero il 10 è il completamento quindi diciamo che siamo arrivati un po al full al pieno al massimo di questa situazione della serie peggio di così ecco siamo arrivati al massimo carico va bene qualcuno ha anche abbandonato certe idee si è messo un po il cuore in pace sembrerebbe con l'otto di coppe qua abbiamo una persona di spalle a tutte queste coppe un po in piedi un po rovesciate quindi vuol dire che un po ci siamo a prendere le distanze a lasciarci alle spalle persone situazioni cose che non andavano più bene per noi sicuramente qua ci sono di mezzo anche figli ci sono di mezzo anche questioni amorose qua si vede proprio molto bene quindi forse qualcuno qua sta un po in crisi per quanto riguarda anche il discorso affettivo non solo amoroso insomma lavorativo ma anche affettivo allora ripeto una schiarita c'è ma non vedo la soluzione ancora a breve per te per questo mazzo andiamo ad approfondire sugli eventi sugli eventi ricordi il chiarimento è con il sole qualcosa succede nel futuro prossimo a breve sempre ovviamente per quanto riguarda un chiarire con qualcuno vediamo un po prossimi eventi oracolo per il mazzo numero due la pirite a breve vediamo tre eventi tre eventi il primo evento una riconciliazione eccolo qua l'arcano sole farai la pace con qualcuno ambiti amore famiglia lavoro quindi dipende da te questo è un collettivo è vedi qual è il tuo ambito su che cosa potrebbe diciamo mettersi bene incastrarsi bene questa carta amore famiglia lavoro o aggiungerei io anche extra cioè nel senso qualsiasi altra cosa magari al corso di judo faccio per dire c'è stata un qualcosa con qualcuno ecco quello è un extra considerato se non è amore famiglia lavoro può essere qualsiasi altra cosa quindi c'è questa riconciliazione che ci conferma appunto l'arcano sole che ti dicevo prima una risposta positiva se hai pensato a qualcosa o qualcuno la risposta è sì quindi ci dice comunque ripeto l'ambito qualsiasi perché comunque l'energia e l'ascolto sono tante diverse l'energia è positiva per quanto riguarda una risposta la risposta è sì ci dicono inoltre scoprirai qualcosa qualcosa che non sapevi o sospettavi qualsiasi ambito allora sia allora per molti ci parla di una sorpresa proprio c'è una scoperta proprio che tu neanche se non ti pagava avresti detto così ok per tanti invece sembra una conferma di un sospetto che avevano quindi qua c'è nel tuo futuro prossimo breve comunque uno scoprire un qualcosa sia che allora ricordati qualsiasi ambito dice quindi sia che sia l'amore il lavoro qualsiasi altra cosa nella tua vita in questo momento che fai però c'è uno scoprire quindi qua se già ti balenava in testa qualcosa lo vieni a sapere scopri se è vero questa idea che hai o se era solo un sospetto infondato o se era fondato per tanti invece ci sarà una botta perché qua dice anche che non sapevi quindi scopri qualcosa che ti ripeto come ho detto poco fa neanche se uno ti avesse pagato tu avresti detto quello cioè se avevi scopresso avevi perso quindi qui c'è anche un po una botta per qualcuno che veramente viene a scoprire qualcosa che neanche ma neanche da lontano sospettava ok però abbiamo anche delle risposte positive a qualcosa o qualcuno è una riconciliazione quindi qui si fa la pace attenzione potrebbe essere anche un lavoro è potrebbe essere una disputata tra colleghi con il superiore con l'ufficio di competenza qualcosa in famiglia perché ne so per un'eredità per una casa fratelli sorelle zii e zii insomma un qualcosa che si va a riconciliare mazzo 2 va bene questi sono degli eventi significativi a breve per te che accadranno andiamo avanti con un qualcosa ancora che devi sapere dai messaggi divini dai miei oracoli vediamo adesso cos'è che dobbiamo dire è che hai scelto il mazzo 2 e la pirite pietra pirite in questo momento della sua vita pietra pirite un messaggio di queste vediamo per la pirite che cosa c'è ero io quel soffio di vento che hai sentito 11 22 i numeri maestri devi chiedere aiuto agli angeli chiedi aiuto agli angeli quindi qui allora sono due messaggi qui c'è partiamo dal basso un chiedere aiuto agli angeli quindi qui se hai bisogno non farti problemi non ti preoccupare chiedi aiuto agli angeli qua chiedi la chiarezza chiedi che ti siano date risposte non c'è da avere qui bisogna parlare con l'entità di luce con gli esseri di luce come fossero lì come se parleresti con tua sorella con tuo fratello col miglior amico amica confidente che hai nella vita tua madre tuo pa insomma così come parliamo noi molto semplice e poi un'altra un'altra conferma se qualcuno magari ha insomma dei defunti recenti o meno recenti sente magari a volte o vede anche con la coda dell'occhio delle cose sente qualcosa soffi tocchi guance capelli quelle cose strane dietro le spalle che ne so insomma ognuno è diverso dall'altro qui c'è questo soffio di vento è questo soffio di vento ti dice guarda che ero io quindi qua abbiamo una conferma che qualcuno all'ascolto ha avuto dei segnali proprio da un'altra dimensione che sia da defunti o che sia da angeli o arcangeli addirittura o esseri galattici qualche che ne so qualsiasi cosa che comunque non è terrestre che non è terrena ed è in questo momento in una forma eterica in una forma lucente va bene una altra dimensione quel soffio di vento era un modo per comunicare una presenza e forse qualcuno l'ha avvertito ma aveva il dubbio dice ma sarò io che no oppure che ne so ci giriamo a guardare se c'era la finestra aperta o se qualcuno si è mosso se è stato il gatto che ha fatto aria no ecco no questo non è il gatto questo è un essere di luce ok può essere un defunto ma anche no cioè può essere anche un'altra entità di luce ripeto galattici guide angeli eccetera eccetera ero io quel soffio di vento quindi qui ripensa se hai avuto qualche esperienza di questo tipo se hai sentito cose di questo tipo perché te è una conferma questa è una conferma ero io quel soffio di vento che hai sentito 11 22 numeri per te per chiudere vediamo un'energia in arrivo per il mazzo 2 pirite un'energia in arrivo futuro prossimo a breve per la pirite mazzo 2 l'energia che arriva vediamo qual è l'energia per te ah beh qua abbiamo sempre questa indecisione che vediamo nell'inizio guardate un altro 2 è uscito è cioè qua allora non ci togliamo da questa indecisione ancora ma non ti preoccupare comunque cerca di restare centrata di restare centrato mi raccomando centratura del cuore radicamento posizione grounding per chi la conosce gambe flesse e cercare con la pianta del piede ovviamente scalzo è di percepire la connessione con la terra con il terreno perché sennò qua andiamo su con la testa ma non ci andiamo bene ci andiamo male qui abbiamo ancora una serie di conflitti mentali molto molto forti qui c'è una grande energia indecisa come si vedeva dall'inizio dai tarocchi vi ricordate prima quanti due quante indecisione si vedeva ecco la conferma qua comunque ancora nel breve termine ci dice che non cambia questa cosa quindi però appunto siccome lo sai cerca di migliorarti in questo in questo senso cerca di fare meditazione di fare centratura di fare dei respiri profondi ispira dal naso ispira dalla bocca connettiti con l'essere che sei connettiti con madre gaia connettiti con la terra perché qua c'è il rischio che andiamo troppo su ma non ci andiamo bene qua qua ci andiamo con la confusione torniamo giù radichiamoci fai la centratura sul cuore ok anche con le mani no sul quarto chakra sul cuore e respira senti ok senti il tuo petto senti il battito del cuore ok oppure metti le mani tipo che ne so sull'ombelico per esempio gonfiando la pancia devi sentire a livello diaframmatico questa pancia che quando si espande cioè quando tu inspiri la pancia va in fuori quando espiri fuori no la pancia si ritira questo è un ottimo esercizio anche per la salute il diaframma deve respirare bene perché guardate che dalla respirazione dipende qualsiasi cosa tutto quante volte ci troviamo quasi in apnea quante volte ci ritroviamo o vi siete ritrovati a respirare in modo corto ecco quello non è salute la salute è un respiro lungo guarda sola dirlo già mi viene no allora qui c'è da fare questo tipo di respirazione diaframmatica se no rischiamo qua si chiama schizofrenia però ci fa capire quanto siamo ancora molto vulnerabili ok molto fragili lettura 2 mazzo 2 pirite dobbiamo assolutamente instradarci perché questo è quello che diciamo avviene a breve ma dopo ancora un punto di domanda dobbiamo capire che la vita va presa così eh non possiamo avere le certezze da qui a due anni da qui a un anno io lo dico sempre che ormai il mio affezionato mia affezionata lo sa questo è la tendenza questa è un'energia come direbbero i tibetani qui è impermanente la parola chiave del tutto è l'impermanenza come dicono i tibetani cioè avere ben chiaro che tutto è un attimo che tutto scorre questo è un insegnamento fondamentale ecco perché dico le cose vanno guardate spesso le energie valgono quando le apriamo e da lì a breve non possiamo vedere chissà dove ok chi lo fa non è corretto perché il tempo non esiste lo spazio non esiste ma io spero di rivolgermi persone che sanno il concetto di energia che cosa significa altrimenti cadono poi nelle trappole di quelli che dicono prevediamo il futuro se fra quattro anni che ne so trovi quell'uomo lì ecco questa è una truffa praticamente perché non può esistere a livello proprio di spazio tempo questo ok quindi spero perché questo canale fa crescita spirituale anche per tirarvi fuori dagli impostori perché quando si capiscono bene questi concetti uno non chiederebbe mai cosa succede fra due anni alle carte una persona cosciente consapevole centrata lo sa quindi quando interroga le carte vede ora qui e ora e vediamo come verte come butta della serie punto di domanda ecco qui butta così qui non siamo ancora fuori lettura 2 perciò mi raccomando esercizio di grounding esercizio di centratura respira usa questo diaframma gonfia la pancia sgonfia la pancia gonfia la pancia sgonfia la pancia e questo ti fa bene proprio per la salute per la salute per il cuore per l'ossigeno nel sangue la respirazione la base di qualsiasi cosa ok grazie mille lettura 2 mi raccomando poi ci riaggiorneremo magari anche andando avanti se ti è piaciuto questo video lasciami pure un like e iscriviti al canale io vi ringrazio sempre tutti leggete la descrizione del video vedete anche in sovraimpressione per parlare con me che cosa c'è da fare sito web mi raccomando dove ci sono tante informazioni utili e approfondimenti canalizzazioni esercizi spirituali personali per la crescita va bene quindi vedete tutto in sovraimpressione ma anche nella descrizione del video vi saluto vi ringrazio e vi mando tantissima luce e vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me ciao a tutti grazie